Alla vigilia della resa, Albert Kesserling, comandante dell'esercito tedesco in Italia, fu sostituito sul finire della guerra dal generale Enrich Schell von Vietinghoff. Alla vigilia della resa, Kesserling fu nominato da Hitler comandante del fronte occidentale al posto di von Rundstedt e applicò in Italia la strategia del massimo sfruttamento delle situazioni orografiche che culminò con l'organizzazione della linea gotica. Nel dopomorte queste coscienze come hanno organizzato la loro vita? Commento. L'hanno organizzata, come tutti i trapassati, alla luce dell'evoluzione che hanno raggiunto nella loro ultima incarnazione. Meno queste coscienze che noi conosciamo come tedesche sono rimaste concentrate sulle loro azioni militari, più si sono avvicinate ad una maggiore realtà. E' l'unico modo che hanno per preparare con un dolore minore la loro incarnazione successiva.